Musica Carissimi amici, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi studiamo insieme l'arpeggio iniziale del famosissimo brano di Tiziano Ferro Il regalo più grande Prima di cominciare il video però, mi raccomando Iscrivetevi al mio canale YouTube E attivate anche la campanellina Così ogni volta che pubblico nuovi video Vi arriva la notifica che vi avvisa Detto ciò cominciamo subito E come al solito studieremo il brano a sezione Sezione 1 Indice al secondo tasto della quinta corda Anulare e mignolo Entrambi al quarto tasto ma della quarta e terza corda Con la mano destra suono Quinta, quarta, terza e seconda corda A questo punto, sempre in questa posizione, suono la quarta corda E faccio un glissato con l'anulare dal quarto tasto al sesto tasto Rivediamo da capo tutta la sezione 1 Molto lentamente La sezione 2 è identica alla sezione 1 L'unica differenza è che nella parte finale Suono la quarta corda senza fare il glissato Nell'intro completo La sezione 1 e la sezione 2 Si ripetono un'altra volta Quindi rivediamo tutto l'intro da capo Prima molto lentamente E poi al suo tempo Per eseguire l'arpeggio In tonalità originale Dovrete accordare la chitarra Un semitono sotto Ed eseguire l'arpeggio Così come ve l'ho spiegato io Bene, per oggi è tutto Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel like E scrivetemi qui sotto nei commenti Quali sono altri brani che volete imparare Io ragazzi, come sempre Vi ringrazio tantissimo per la visione Condividete il video, mi raccomando Perché attraverso le vostre condivisioni Il mio canale YouTube può crescere E questo mi permette di continuare A portare i contenuti che sto portando E niente, vi ho detto tutto Ci vediamo al prossimo tutorial Ciao!